La ringrazio Presidente. Una notazione iniziale secondo me è importante. In quest'Aula noi abbiamo assistito negli anni addietro a delle discussioni tutt'affatto diverse riguardo al tema della mafia e della criminalità organizzata. E abbiamo anche vissuto delle situazioni molto pesanti in ordine a questi argomenti. Ricordo che la nona legislatura di fatto si è interrotta bruscamente anche in virtù del fatto che infiltrazioni o sospetti di infiltrazioni erano giunti fino nel cuore di questa istituzione regionale. Sarà poi la magistratura a stabilire la rilevanza e l'effettività di queste infamanti accuse. Sta di fatto però che dobbiamo registrare che nel giro di due anni e mezzo, tre anni, il clima qua dentro è molto cambiato e si è tornati, anche grazie all'istituzione della Commissione Speciale Antimafia di cui ampiamente si è già discusso questa mattina, si è giunti a un atteggiamento completamente diverso che secondo me fa onore a questa nostra istituzione e lo fa senza assolutamente distinguo dal punto di vista anche dell'appartenenza politica. Questa è un'acquisizione che è sicuramente importante e che trova all'interno della legge che stiamo discutendo una significativa anche cristallizzazione normativa e istituzionale. Permettetemi però, nel corso di questo mio brevissimo intervento, di fare un po' anche la voce fuori dal coro. Io auspico, come ha appena fatto il collega Tizzoni, che questa legge sia approvata all'unanimità, però non posso esimermi dal sottolineare come una volta di più anche attraverso questa legge si stiano mettendo in atto delle forzature che poco hanno a che fare con il clima e la modalità con cui si è discusso di questa legge, si è arrivati a un accordo e si arriverà, e lo ribadisco, lo auspico con forza, a un'approvazione unanime della legge stessa. Ci sono due articoli in particolare che dal mio punto di vista non centrano assolutamente nulla con quanto la legge prevede, cioè il contrasto alla criminalità organizzata e specificamente, se vogliamo usare un termine più affine all'opinione pubblica, alla mafia. L'articolo 21 che recita assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità. Nella rubrica ci può stare il fatto che questo abbia a che fare con la legge, però il comma 2 di questo articolo 21 che riguarda il patrocinio gratuito per quanto riguarda l'eccesso di legittima difesa, francamente mi sembra assolutamente del tutto incoerente con quanto previsto dal resto della legge. Poi per carità, è una previsione questa legislativa che era già entrata nel corpus legislativo regionale grazie a un blitz fatto in un'altra occasione all'interno di quest'Aula. È legittimo che la maggioranza e segnatamente una parte della maggioranza di questa regione faccia di questa volontà di concedere un patrocinio gratuito senza grosse distinzioni per quanto riguarda l'ipotesi di eccesso di legittima difesa. È legittimo che se ne faccia una battaglia dal punto di vista del proprio posizionamento nel quadro politico nei confronti dell'opinione pubblica. Mi sembra un po' meno razionale, un po' meno lecito che questo venga inserito all'interno di una legge che è condivisa assolutamente da tutti e per la quale si chiede un voto unanime. Mi sembra quasi una sorta di prese in giro anche di altri consiglieri che hanno una posizione diversa su questo tema e che si vedono comunque, lasciatemi anche usare questo termine, ricattati dal punto di vista della propria libertà di esprimere dissenso su questo punto senza inficiare invece il comune sentire riguardo la lotta alla criminalità organizzata. Quindi questo mi sembra un dato francamente fastidioso, consentitemi di dirlo. C'è un emendamento proposto dal collega Bruni che sta tentando di venire incontro in tutti i modi anche alle esigenze della maggioranza che peraltro io non condivido. Io mi auspico che ci possa essere se non altro un avvicinamento, una mitigazione del modo in cui è scritto questo secondo comma e che francamente mi sembra davvero indigeribile, così almeno dal mio punto di vista. Fermo le stando che questo non mette in discussione il mio voto per tutta la legge, però mette in discussione un po' la mia libertà di esprimere il dissenso, almeno su questo comma. Anche l'articolo 22 che peraltro introduce un elemento sul quale siamo, penso, tutti d'accordo in quest'aula, cioè il fatto che chi subisce dei danni a causa o a seguito di manifestazioni che trascendono la legittima possibilità di esprimere dissenso attraverso lo sciopero e le manifestazioni di piazza possa essere risarcito. Ecco, il fatto però di inserirlo anche all'interno della legge antimafia francamente mi trova assolutamente perplesso. Potevano esserci tranquillamente altri veicoli legislativi, primo fra tutti, tra poche settimane, il collegato al bilancio, comunque si poteva prevedere perché no anche una specifica norma di legge che ci avrebbe trovato tutti d'accordo. L'inserirlo qua dentro indica una volta di più l'atteggiamento molto disinvolto con cui questa maggioranza utilizza i regolamenti e le possibilità concesse dalla nostra istituzione Consiglio regionale. Perché purtroppo in queste settimane nei lavori di commissione e anche nei lavori d'aula abbiamo visto davvero una modalità piuttosto disinvolta e discutibile nel seguire iter legislativi e nel rispettare i regolamenti. Mi sembrava opportuno sottolineare queste due perplessità che sono mie personali ma che ritengo essere condivise da buona parte almeno delle minoranze senza per questo ribadisco mettere in discussione il voto finale su questa legge legge che mi sembra un ottimo risultato per questo Consiglio. Però è un invito e un appello che lancio anche alla maggioranza vediamo di essere un po' meno strumentali, un po' meno anche così propagandistici nell'utilizzo delle modalità di lavoro di quest'aula che fino a prova contraria deve essere garanzia per tutti di rispetto delle istituzioni e non veicolo per pur legittime battaglie politico-propagandistiche che le singole forze vogliono portare avanti. Vi ringrazio e ringrazio anche tutti coloro che hanno lavorato alla cremente a partire dagli uffici per farci giungere quest'oggi alla discussione e all'approvazione di questa legge.